Amici ecco qui Sergio alle prese con la pompa alle prese con la pompa no no non bagna papà non mi bagnare stai fermo no non mi bagnare ha bagnato pure papà Sergio fa attenzione ti chiudo l'acqua non mi bagnare ti chiudo l'acqua lava le macchine lava le macchine lava le macchine mamma che sta combinando lava le macchine lava tutto lava per bene sto riempiendo anche l'innaffiodoio con la cannola con la pompa con la pompa mamma che stai combinando un macello un macello veramente no bagno bagno totale dai ovviamente quella che hanno ancora riempi 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 l'innaffiodoio riempi l'innaffiodoio innaffiodoio mantieni mantieni perfetto perfetto riempi tutto ok basta 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 vai buttino la sopra l'uracano 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 ok la bomba la bomba la bomba la bomba questo è forte c'è la pressione foto ma l'ho però va divertente questo gioco è molto divertente ovvio ovvio vai vai tre due uno sciacquo e risciacquo vai mole sembra che di stare al mare vero ottimo ottimo che è l'entino è quasi sta rindando quasi all'urno quasi all'urno adesso si muestra qui sta fuori 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 la bomba passa amici amici il divertimento assicurato qui con Sergio e con Bada mi raccomando iscrivetevi al canale l'ultimo 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 un bel balletto caldo ciao a tutti danni questa